il leader dei Novaks israeliani ucciso dal virus, dal virus Covid-19 una cosa incredibile cari amici una cosa incredibile, incredibile se non fosse scritta, se me l'avessero raccontata al BAD questa notizia io non ci crederei una cosa incredibile è scritta, è scritta sta scritta qua ne parlano tutti i giornali, tutte le televisioni il leader, il leader il leader dei Novaks israeliani ucciso dal virus Covid-19 cose incredibili cose incredibili rivedo la notizia, io l'ho letta e ve la metto come linea il riassunto di questo video ma io non lo so ma perché, ma perché si vede che questo leader dei Novaks israeliani ovviamente non era informato sulle questioni italiane forse non lo sapeva che in Italia da noi anche i due potentissimi leader popolari Matteo Salvini e Giorgia Menoni ci sono fatti vaccinare e facendosi vaccinare ovviamente ci hanno pure il Green Pass perché per avere il Green Pass basta essere stati vaccinati e il Green Pass ti arriva automaticamente tu non devi neanche spendere una lira ti arriva automaticamente sul tuo smartphone oppure te lo danno cartaceo non devi spendere una lira si vede che questo leader dei Novaks israeliani non era stato informato che in Italia anche i due potentissimi leader popolari Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono fatti vaccinare perché loro questi due potentissimi leader popolari italiani Matteo Salvini e Giorgia Meloni non vogliono fare la fine di questo leader dei Novaks israeliani si sono messi al sicuro si sono messi al sicuro due potentissimi leader popolari Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono messi al sicuro qualche mese fa si sono fatti vaccinare si sono fatti vaccinare e per cui essendo stati vaccinati c'hanno pure il Green Pass perché il Green Pass ce l'hai appena tu arrivi a venire vaccinato se poi tutto il popolo italiano si facesse vaccinare come Giorgia Meloni e Matteo Salvini nessuno più parlerebbe di Green Pass se fanno tante storie vogliamo il Green Pass non vogliamo il Green Pass ma basterebbe che tutto il popolo italiano si facesse vaccinare come si sono fatti vaccinare Giorgia Meloni e Matteo Salvini che tutti automaticamente ci avrebbero il Green Pass anzi non si porrebbe più il problema del Green Pass perché il governo sta tirando fuori la questione del Green Pass solo perché ancora non tutto il popolo italiano si è fatto vaccinare ma invece tutto il popolo italiano si dovrebbe far vaccinare seguendo l'esempio dei due potentissimi leader popolari Matteo Salvini e Giorgia Meloni che si sono fatti vaccinare e quindi hanno il Green Pass vabbè cari amici io vi lascio questa terribile notizia ve la lascio nel riassunto di questo mio video vi metto il link trovate scritto che il leader dei Novak israeliani è stato ucciso dal Covid il leader non un Novak qualsiasi il leader dei Novak ho capito ma vai tu a capire certe situazioni beh in ogni caso è la situazione migliore ed è scritta in questa mia opera storico-mitologica la stirpe del serpente va bene? ok cari amici ok per cui a tutti tanti cari saluti proprio dalla stirpe del serpente che